Ciao a tutti e benvenuti su Strategia IT. Stasera, dico stasera perché sto registrando in notturna, diciamo così, ho il piacere di avere con me Matteo Brunati. Ciao Matteo, benvenuto su Strategia IT. Ciao a tutti. Ecco, dici subito, di rito, io chiedo a tutti chi sei e cosa fai nella vita. Allora, nella vita faccio il community manager per una full startup italiana con sede a Trento, infatti mi sono connesso da Trento stasera dove vivo da cinque anni, ma forse l'ha parlata, si sente che sono un Veneto, quindi diciamo così, sono un Veneto emigrato in Trentino. Faccio il community manager in questa azienda che si chiama Spazio Dati dal fine del 2013, quindi un po' di anni e come seconda vita faccio un po' l'attivista sui temi di quello che magari di cui parleremo anche stasera, del civic hacking e tutto il mondo di riutilizzo delle tecnologie e di modo diverso di pensare alla tecnologia per risolvere anche i problemi civici. Bravo che hai introdotto questo tema perché sono tutti temi interessanti. Iniziamo con quello per cui ti ho chiamato, che è il progetto che mi piacerebbe dargli anche un po' una voce, un po' più ampliarla, è che è civic hacking, il sito civic hacking.it, poi metteremo tutto nelle note dell'episodio. Quello che mi interessa e che mi ha sempre colpito, che seguo da un po' di tempo la vostra newsletter, ma probabilmente era nato come la necessità di pubblicare un libro per così trattare dei temi, e poi diremo quali, che sono un po' difficili da masticare, no? Sono un po' complessi perché intervengono tanti fattori. Se ci puoi dire questa newsletter quali argomenti tratta? Allora hai fatto bene, effettivamente questa cosa nasce, il progetto civic hacking.it nasce da un'idea mista mia e di mia moglie, Erika Marconato. Io ho un background informatico, ho fatto delle tesi sul semantic web, tecnologie web, quindi mi interessa, sono un tecnico di base di formazione, lei invece è un umanista, filosofia, quindi un ambito completamente diverso, ma che è molto vicino all'informatica, molto più di quello che si pensa. Questa cosa nasce al giugno 2017 perché ci siamo chiesti due cose, ci siamo posti due domande. Il primo motivo era che era un po' di anni che ci interessava tutto il mondo open data, aspetti civici di riutilizzo delle informazioni pubbliche, ma non si riusciva a uscire, a essere, non veniva conosciuto fuori da quelle piccole cerche in cui eravamo. E dall'altra la consapevolezza che forse anche sembrava una roba da, come dire, da, come il calcio da un certo punto di vista, cioè una cosa che interessava a pochi, ma che non aveva nessun peso davvero forte. Per cui ci siamo resi conto che effettivamente poteva essere utile un libro, inizialmente, per mettere a terra tutta una serie di cose, un vissuto di, diciamo così, quasi una decina d'anni, che aveva bisogno di anche sedimentare, di essere trasmesso agli altri. Una complessità, se vogliamo, ma anche un'esperienza che attraverso la velocità dei social media, piuttosto che link di blog ormai un po' vecchi, che quindi venivano anche visti poco, tra virgolette, non veniva più, si sarebbe persa come esperienza, un vissuto. E quindi ci siamo messi l'idea di dire, ok, mentre scriviamo questo libro, noi eravamo super felici di farlo e quindi l'abbiamo annunciato appena abbiamo deciso l'indice, non avevamo ancora scritto nulla e praticamente abbiamo deciso di fare anche una newsletter settimanale. Quindi da luglio 2017 abbiamo cominciato a esplodere alcuni temi che scoprivamo nella stesura del libro con questa newsletter. Poi ovviamente la vita si mette in mezzo, non è semplice scrivere un libro quando una persona lavora full time, hai la vita, tutte le questioni classiche di tutti noi, insomma pagare le bollette, gestire un po' di vita sociale, gli amici e tutta una serie di altre cose. Quindi il libro lo stiamo scrivendo ma non abbiamo una data di uscita o di chiusura. Ce le stiamo dando internamente ma non possiamo dire nulla verso l'esterno e non si sa quando potrà uscire. Una cosa, quindi riepilogando, c'è questa newsletter che è questo lavoro di content curation che voi andate in base alle vostre esperienze, in base a quello che raccogliete online e alle persone che incontrate e ai progetti soprattutto che incontrate, testimoniate e infatti in modo che quell'informazione poi possa diventare azione in qualche maniera e questi, diciamo, questi temi che trattate possono, attraverso questa azione di divulgazione, possono arrivare a più persone possibili. Però quello che mi chiedevo, cos'è che vi manca per fare in modo che questo libro diventi realtà oltre al tempo, se fosse solo la componente tempo che manca? Se vi siete mai posti questa domanda. Allora, personalmente quello che manca è riuscire a vivere in un momento isolato dal presente, no? Nel senso che purtroppo questi temi crescono e evolvono nell'attualità, quindi anche siccome alla fine tutto sommato ci siamo resi conto nella stesura del libro che viviamo in una società dove è un po' difficile dividere le materie e gli ambiti, no? Alla fine toccare il tema del civic hacking, cioè questa brutta parola, civico. Civico significa che ha a che fare in qualche modo con la democrazia. Ora, io sono un informatico, non ho mai studiato particolarmente i principi democratici alla base della vita in cui viviamo, a meno qui in Italia. In realtà in questi ultimi anni mi sono studiato un bel po' di cose e quindi alla fine probabilmente vivere l'attualità, cercare di evitare di non dare troppo peso a una serie di contesti che accadono nel mentre vivi, è un elemento che rallenta la riflessione più, come dire, più fuori dal tempo che stiamo cercando di fare anche nel libro, no? La newsletter è una serie, diciamo così, è il compromesso migliore che stiamo cercando di tenere in piedi, visto che la coerenza non è di questo mondo, tra temi che ci interessano, che in qualche modo copriamo nel libro, oppure che sono più o meno complementari, no? Al tema del civic hacking che è il cuore, di quello che stiamo approfondendo, toccandolo e cercando di mischiarlo con un tema di attualità, quindi eventi collegati, una delle ultime abbiamo cercato di coprire il tema del cambiamento climatico, piuttosto che tutta una serie di ambiti durante le elezioni che erano fortemente collegati con l'ambito democratico e volevamo approfondire anche, come per singoli cittadini, no? Per cui cerchiamo di unire un po' l'attualità e un po' i temi che stiamo comunque scrivendo nel libro e di fatto la newsletter ha preso una vita propria, in un certo punto di vista, no? Nel senso che è l'unica dimensione grossa che si vede verso l'esterno del progetto e ci siamo affezionati, quindi uno pensa, ma magari fermiamo la newsletter e consentiamoci a finire il libro. In realtà ci siamo resi conto che probabilmente sono due anime della stessa, di uno stesso contesto. Infatti io che leggo la newsletter vedo che è molto ricca e già da sola stampare la newsletter sarebbe già il libro di fatto, potrebbe essere la soluzione. Esatto, non è detto che ho amici a cui parlavo qualche settimana fa e dicevano, ma non è detto che l'output di questo lavoro editoriale possa diventare solo un libro o nella forma in cui avevamo iniziato a pensare nel 2017, potrebbe diventare qualcos'altro. La cosa importante che ci sta permettendo è fare delle riflessioni strutturate, cercando materiali, cercando tutta una serie di ambiti che nel tempo, come dire, quotidiano faresti fatica ad approfondire, anche perché non è il mio lavoro capire meglio le regole democratiche. Certo, e poi la cosa bella di questa newsletter è che ti riporta, chiamiamolo i case study, ma in realtà sono progetti di civic hacking, che quindi ti permette di toccare con mano cosa significa, perché mi ricordo in una newsletter che tu raccontavi la differenza tra un maker e un civic hacker, e dicevi, cosa dicevi per l'appunto su queste due figure, la differenza sostanziale? Diciamo che la differenza sostanziale dipende anche dai punti di vista, nel senso che questa newsletter è frutto di scelte editoriali mie di Erika, ma spesso la scrive Erika, perché è scritta bene, io non scriverei così bene, per fortuna la scrive lei, ma soprattutto cerchiamo di far trovare un punto di sintesi tra i nostri punti di vista. Sul punto di vista del civic hacking e il maker è soprattutto l'attenzione all'aspetto civico, cioè il civic hacking o il civic hacker comunque cerca di avere come fine la risoluzione di un problema civico che interessa non solo lui, mentre magari il maker tutto sommato ha una fortissima componente, è uno smanettone, è in grado di, come dire, plasmare un po' la tecnologia, però non è detto che debba farlo per uno scopo civico, può farlo anche per il puro divertimento, o comunque cercare di rifare uno strumento che ha valore, che magari esiste nel mercato, ma che lui vuole fare con le proprie mani e quindi ha la dimensione di divertimento più competenza, più creazione di qualcosa, ma ai suoi fini. Sì, infatti mi aveva colpito che, tu dicevi, il maker è concentrato sul fare, che è un bene, per carità, ma forse può perdere oppure non è interessato a questa dimensione civica, dove voi siete più concentrati. Senti, la newsletter comunque ha dei macro argomenti, io li vedo qui elencati, che gli ho pendata, agli attori del cambiamento, suonavo, antisonante. Le comunità informali, le zone grigie, i prototipi. Iniziamo un po' dagli open data, perché tu sei anche co-founder di Spaghetti Open Data, che è, diciamo, un gruppo di persone che organizzano anche eventi come il SOD, molto interessante. Io seguivo sempre gli argomenti che trattavate su Google, gruppi, era veramente molto interessante, ho partecipato anche a un SOD qualche anno fa. Ah, ok. Come è nato, come è nato questa, non è associazione, giusto? È un gruppo? No, 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 è quello che noi abbiamo definito come comunità informale. Spaghetti Open Data nasce nell'estate 2010, praticamente da una serie di, come dire, sai, nella storia ci sono quei momenti che possono poi non ricapitano, no? Nasce dalla contaminazione che c'è stata tra un economista, che poi è anche un cantante, cioè Alberto Cottica, che per chi non sa era, suona la fisarmonica nel gruppo dei Modena City Ramblers. Gruppo storico. Gruppo storico, quello degli anni 90, diciamo, che ha una competenza, in realtà è un economista, e si stava chiedendo, in quel periodo lì aveva appena scritto Wikicrazia, che è un libro che cerca di spiegare il lato positivo potenziale delle politiche wiki, cioè quando tu, per creare una policy pubblica, al post di falla all'interno di un tavolo ristretto di esperti, la apri alla cittadinanza tramite la rete. Era il 2010, lui l'ha scritto probabilmente a fine 2009, inizio 2010, quindi era anche un'altra rete, no? Lui si incontra con un po' di gente della blogosfera italiana, tra cui anche il sottoscritto. In quegli anni scrivevo molto sul mio blog, e viene fuori il tema di provare a, come dire, a parlare direttamente ad alcuni funzionari pubblici. Lui era in quel periodo dove viveva a Roma, e siamo entrati in contatto a una specie di aperitivo con una serie di funzionari della ragioneria dello Stato, piuttosto che di vari ministeri, gente che era comunque a livello mediamente dirigenziale, ma che non era una persona visibile come possono essere i ministri, no? O politici di varia natura. Tutti noi eravamo tutti propensi a dire, ma scusa, all'estero si parla di open data. Qui in Italia fondamentalmente l'azione pubblica governativa non li aveva ancora considerati. Obama e tutta l'amministrazione statunitense li stava considerando dal 2009, quindi era già un bel anno e mezzo, e ci siamo detti perché non facciamo qualcosa? E il qualcosa è stato provare ad aggregare in maniera, in un unico sito, che era quello di Spaghetti Open Data, tutti i dati pubblici, anche quelli senza licenza, che abilita il riuso anche commerciale del dato, che era un po' l'elemento nuovo che mancava a una serie di dati che trovi online, specie in quegli anni, e abbiamo fatto praticamente a ottobre del 2010, io ho fatto, io e un altro Federico Bo, che era un altro manettone informatico, abbiamo fatto questa prima versione del sito che poi potenzialmente diventerà dati.gov.it, cioè un catalogo, un elenco di dataset, con associato una serie di metadati, cioè il titolo del dato, il formato, se c'è una licenza qual è, e magari anche qual è il grado di riusabilità tecnologica, quindi quanto può essere usabile quel dato, se è un PDF, ovviamente i dati che contiene sono poco riutilizzabili facilmente, se è un file csv, magari di più. C'è un'altra forma di file ancora più strutturato, ad esempio tutto quello che si chiamava linked data, cioè i dati collegati tra di loro attraverso un uso di tecnologie semantiche, se vogliamo, che era la visione del World Wide Web. Sì, di Tim Berners-Lee. Sì, esatto, io ho fatto la tesi di laurea su questo e quindi ero un entusiasta in quegli anni, che sperava che tutti parlassero linked data, quindi comunque a ottobre del 2010 nasce questo sito che cerca di dare evidenza di tutta una serie di dati che erano sparsi all'interno in luoghi oscuri dentro n.mila siti governativi e cerchiamo di dargli visibilità. La lista nasce a fine settembre del 2010 proprio per cominciare a coordinarci tutti quei pazzi che si erano messi in testa di fare questa cosa. La cosa interessante è che in quei giorni, diciamo, la prima cinquantina di persone che si è iscritta alla lista era di natura del tutto disomogenea, cioè c'erano gente che lavorava nella pubblica amministrazione, nei ministeri, competenze completamente diverse, un po' di informatici, non tanti, economisti, architetti appassionati di tutto il mondo open che lavoravano all'estero, magari, ah cacchio, anche in Italia sta nascendo un movimento su questa cosa. E diciamo così, il traino era stato anche in quei mesi, in tutto il 2010, la blogosfera, a parte della blogosfera italiana, aveva cominciato a discutere di queste cose, però in maniera sparsa. Il vantaggio di avere una lista era cominciare ad aggregare in maniera pubblica una discussione che altrimenti si sarebbe persa. E quindi un po' nasce così Spaghetti Open Data. Interessante. Quindi abbiamo parlato di Open Data, che è il focus dei Spaghetti Open Data, e di queste comunità, come l'avete chiamato voi, informali, che immagino che non solo loro, ma anche quelli che si possono aggregare, cittadini indipendenti o quant'altro. La cosa che, infatti, in Italia vedo sempre un po' di confusione, perché quando vai a fare qualcosa, soprattutto in questo ambito che va a toccare molti interessi, da una parte ci può essere un osservatorio, da una parte una fondazione, da un'altra un'associazione, da un'altra ancora degli operatori, lo Stato, le istituzioni, insomma, c'è veramente molti stakeholder, direbbero quelli bravi. Esatto. E quindi tutti creano, possono essere pori di interesse, ma possono creare anche un po' di confusione. E questo un po' fa chiarezza proprio la vostra newsletter. Le altre cose, cioè le zone grigie, che voi chiamate molto, perché ogni tanto la newsletter ha quel tono un po', non tanto polemico, ma quando fa dare uno stato dell'arte, della situazione, e ci sono alcuni progetti di cui parlate voi, che io sono un po' perplesso, negli anni sono interessanti, come non so, potrei citare OpenStreetMap. Voi, questi tipi di progetti qui, vedo sempre che in qualche maniera rischiano l'obsolescenza, oppure non vengono aggiornati, non c'è dietro un'azienda, come non so, avete partecipato anche all'evento del WordCamp, alla fine sì, fortissima la community, ma quando c'è dietro un'azienda che spinge qualcosa si va avanti. Esatto. Quando non c'è, c'è un problema che questi progetti tendono a essere abbandonati nel tempo. Allora, in generale questo funziona per tutti i progetti di comunità, no? Nel senso, il legame tra comunità e progetti che hanno una loro sostenibilità è proprio che è un legame. Non può, è difficile che un progetto di comunità o un'iniziativa di comunità riesca a stare in piedi da sola dopo un primo lancio iniziale, no? Anche perché noi, cioè magari le persone che l'hanno iniziata si stancano, cambiano vita, hanno tutta una serie di scelte ovviamente doverose. Dall'altra, l'azienda o comunque un'entità che crea profitto può prendere in mano o prendere la guida di un progetto di comunità, ma deve stare attenta all'equilibrio che dà, perché se la comunità è ancora attiva deve trovare qualcosa che in realtà è nuovo, perché prima della detta non c'era, cioè deve trovare un equilibrio tra anche la governance del progetto in modo tale da non, come dire, non far perdere ruolo alla comunità stessa, no? Cioè deve scegliere una serie di cose che non sono assolutamente banali e che non hanno praticamente mai a che fare con la tecnologia. Alcuni progetti, allora il tema della progettualità, della sostenibilità del civic hacking in realtà a me e a Verica è fondamentale, è anche un fonte di confronto continuo. Potrei dividere la discussione in due macromondi, il civic hacking di suo è un atto che ha una sua durata nel tempo breve tendenzialmente, che crea, come dire, è una spinta creativa che crea proprio prototipi, il prototipo di per sé è di natura instabile, incompleta, cerca di risolvere un problema, come dire, nella maniera più veloce possibile, ma assolutamente non in maniera sostenibile, no? Quello che poi all'estero è tutto il mondo che nasce dai prototipi del civic hacking, all'estero viene definito civic tech, cioè aziende o comunque progetti che trovano una loro via non c'è un modello, scelgono un modello di business, alcuni anche misti tra crowdfunding piuttosto che finanziamento tramite progetti finanziati pubblici perché copri effettivamente i temi di, come dire, che dovrebbe gestire un ente pubblico generalmente e magari viene scelto un privato per poterlo fare e tutto questo mondo all'estero viene definito, il passaggio è tra civic hacking e civic tech. Il civic tech è il mondo corporate che ha modelli di business, che adotta sostenibilità economica ai progetti civici e che nel mondo ha tutta una serie anche di studi, mi vengono in mente studi di settore veri e propri, cioè fondazioni, mi viene in mente la Knight Foundation US che cerca anche di definire e perimetrare il mondo di tutto quello che viene definito civic tech. In Italia purtroppo ovviamente la dimensione dell'ecosistema è molto più piccola, la consapevolezza anche, e quindi è molto difficile riuscire a identificare anche aziende che hanno creato modelli sostenibili sul civic tech. Ce ne sono, una che conosco molto bene è Open Police, che ora da un paio d'anni è diventata da associazione a fondazione, quindi sono cresciuti anche nel modello di business. in generale il civic tech non dovrebbe concentrarsi sulla sostenibilità, ma come dici deve essere un tema, cioè chiedersi sempre perché una cosa, cioè chiedersi sempre se è una cosa è lavoro, se è una cosa è tra virgolette quello che rientra nel volontariato o in uno stimolo creativo che tu hai scelto di investire come comunità, come gruppo di persone, chiedersi sempre fino a dove puoi arrivare. Non fingere che l'utopia tecnologica, l'utopia del web, l'utopia che ci sia una dimensione se vuoi miracolata di quello che stai facendo. Dobbiamo sempre chiederci perché fai qualcosa e quanto può durare anche uno stimolo creativo che fai nel tempo libero. È giusto, anzi è doveroso. La difficoltà del panorama italiano è che spesso questa cosa non viene raccontata e quindi questo è uno degli scopi a cui cerchiamo di dare evidenza anche io ed Erika. Dall'altra c'è anche molta confusione sul terzo settore, cioè moltissime iniziative civiche rientrano in quello che immarca il mondo del terzo settore, che in realtà in Italia ha dei meccanismi strani, cioè ha il meccanismo di intanto il no profit che spesso viene con... la gente non sa cosa significa. Non è che il no profit significa volontariato. No, anzi, in realtà è un lavoro, è una forma di lavoro che è diversa dal profit e questo è un primo tema. L'altro tema è che il terzo settore in Italia spesso lavora sul welfare, cioè sulla gestione di tutto quell'ambito e tutta questa dimensione in Italia è ancora poco matura la discussione, quindi è uno dei motivi per cui cerchiamo di, nel nostro piccolo, di dare visibilità a questi ambiti e dare anche una loro rilevanza, cioè la cosa un po' più triste di tutto questo è che, come dicevo all'inizio, è una dimensione del nostro essere cittadini, questa dimensione del civico, solo che fai fatica a collegarla a discussioni standard del tipo che si inseriscono nel discorso della democrazia, del voto, di tutta una serie di cose, diritti e doveri, che però non possono essere gli stessi del ventesimo secolo. Siamo nel ventunesimo, c'è una dimensione tecnologica totalmente diversa e riuscire a collegare in maniera creativa il nostro vissuto con queste possibilità collegandolo a principi che sono i principi democratici e anche i principi del fatto che non è che, che ne so, un cittadino si prende cura di un bene che magari dovrebbe gestire la pubblica amministrazione così. Allora Matteo hai detto un sacco di cose, quindi la prima cosa ti interrompo per una cosa più banale, ma forse importante lo stesso, perché io sono nel gruppo Patreon di Star Me Up, di Fabio Bruno che saluto, e Andrea Borruso che all'interno mi ha detto salutami Matteo, hai fatto una scelta a intervistarlo, che lui ha quell'associazione ondata.it, un'associazione per la trasparenza, per la cultura dei dati, lì ho scoperto anche che puoi devolvere il 5 per 1000 alla sua associazione, quindi ci tenevo a fartelo salutare. Un'altra cosa è che il lavoro che state facendo voi non mette un po', voglio dire, sembra che il data journalism da questo punto di vista abbia fallito? Allora, dal punto di vista della, cioè il data journalism è effettivamente una dimensione ampio come argomento però. È molto ampio, conosco moltissime persone che sono cresciute nelle prime fasi del data journalism italiano, io stesso ho fatto docente su alcune elezioni del 2010 a Roma sui pezzi di web semantico per data, come dire, all'interno di un percorso che formava giornalisti per essere un po' più vicini al mondo del data journalism. Ha fallito secondo me sì, un po', perché non è riuscito a far capire il potere della contaminazione tra discipline, cioè è passata un po' sotto tono l'idea che fare la navigazione interattiva dei dati fosse quella cosa nuova che doveva fare il data journalism, cioè l'inchiesta o comunque l'approfondimento in cui a differenza di la foto, l'immagine del grafico hai una navigazione interattiva più, che poteva anche a livello di business far rimanere di più i visitatori che capitavano in quell'articolo e quindi aumentava la permanenza nel sito e quindi poi tutta una serie di indicatori su ROI del lavoro fatto dalla testata, ma quindi si sono concentrati molto sullo strumento ma non sul cosa significa davvero fare il giornalista di dati, cioè fare il giornalista prima di tutto, quindi la profondità dell'inchiesta, la necessaria, come dire, tutta la natura dietro il ruolo del giornalismo come anche elemento che controbilancia il potere da un certo punto di vista, sia il potere costituito a livello di Stato barra governo, sia anche quello dell'impresa, cioè il giornalista dei dati dovrebbe avere ancora più incisività nel far capire un'inchiesta, una cosa che non era detta, era invisibile e renderla ancora più visibile, ancora più comprensibile, avvicinarla ai cittadini, questa cosa in Italia non è passata, sta passando con una lentezza esasperante un po', perché molte testate hanno cominciato a fare un po' di inchieste da solo 24 ore, avere il blog dedicato che fa solo infografiche o comunque infografiche interattive, quello che però non è passato è proprio il lavoro profondo che sottende un'inchiesta di data journalism, è passata la, come dire, quella figatina tra virgolette tecnologica dell'infografica interattiva, ma non tutto quello che magari può fare il New York Times quando fa le inchieste di data journalism, creando, racconcentrandosi sull'esperienza utente e sull'obiettivo dell'inchiesta, cioè essere ancora più in grado di divulgare un contenuto magari complesso che magari riesce a essere digerito, tra virgolette, da una multitudine di diversi attori, a differenza di un articolo che poteva essere molto lungo e pieno zeppo di dati difficili da leggere. Infatti ho parlato di fallimento, ma probabilmente voi avete parlato di incomprensione di questo ruolo. Sì, spesso è così, no, in realtà. Altra cosa che ovviamente passando per l'open data non posso non chiederti, ovviamente chi ci ascolta e che non è, diciamo così, avvezzo a questi argomenti chiederà, stiamo passando su troppi argomenti, ma è perché ogni vostra newsletter è veramente ricca di contenuto, poi uno si focalizza su un argomento che predilige. Sull'agenda digitale, perché a me sembra che stia andando meglio di quanto potessi pensare, però io non sono un osservatore, è critico, è centrato come voi, quindi ti volevo chiedere la tua impressione sul team ovviamente, sul lavoro che stanno facendo, come lo stanno portando avanti. Allora, io ho conosciuto diverse persone del team, ho apprezzato l'idea che servisse una struttura commissariale, se vuoi, per superare alcuni blocchi di governance, no, delle azioni che dovrebbe fare un'agenda digitale italiana. Allora, secondo me ci sono due aspetti. C'è un aspetto che sicuramente non è stato colto, che è tutto il lavoro che sta facendo il team a livello metodologico e a livello di strumenti, è diventato un patrimonio collettivo, un bene comune a disposizione di noi cittadini italiani e anche non, che però, quindi tutto il codice sull'agenda del software che viene prodotto è su GitHub, quindi è disponibile e puoi contribuire, puoi dare una mano anche a osservarlo e visto che il ciclo dei soldi sono soldi pubblici, quindi nostri, il ritorno, come dire, il circolo virtuoso che hanno creato e hanno valorizzato è molto positivo, ma dal mio punto di vista non è stato raccontato, cioè non è comprensibile dall'esterno ed è un grande peccato in realtà, perché questa cosa prima del lavoro del team digitale non emergeva, la PA non lavorava in quel modo e pur essendoci tutto un ciclo di nero pubblico, molte volte veniva tra virgolette sperperato il valore prodotto, vuoi sui filoni della classica fornitura a privati o anche non del software prodotto, ma se pensiamo anche a non aumentare di scala la gestione di un problema, cioè se un comune di 20.000 abitanti commissiona un software per gestire una certa problematica e 30 metri più in là c'è un altro comune di 30.000 abitanti che commissiona lo stesso software a un'altra cosa, tu hai sperperato valore pubblico perché non hai messo a sistema quelle due cose, magari metti assistenza, cioè lascia la personalizzazione locale perché magari l'agenzia locale è leggermente diversa, ma il cuore dovrebbe essere messo a sistema, quello che sta facendo il team digitale sta cercando di dare delle fondamenta su questo e lo sta facendo, ma non viene comunicato abbastanza, quindi da cittadino e anche da tecnico mi dispiace. Dall'altra purtroppo il team digitale è uno strumento, ma il problema vero era la governance, forse adesso con il ministro Pisano e la nuova struttura della Presidente del Consiglio che cercherà di accorpare una serie di funzioni oggi divise potrebbe essere la volta buona, tra virgolette. Il problema vero e magari per chi non l'ha mai eletto è stato utile sulla riforma costituzionale che è stata proposta da Renzi, c'era un bellissimo ammendamento sull'articolo 117 della Costituzione, che l'articolo 117 della Costituzione in pratica regola le deleghe alle varie unità amministrative, ai livelli di potere sulle unità amministrative, regioni, province, comuni e istituzioni centrali. Il problema di quell'articolo è che non è pensato per gestire a livello informatico gli standard, cioè non c'è un obbligo di governance, di un governo collettivo di pratiche che oggi sono delegate ai vari livelli amministrativi. Questa cosa, quando arriva la tecnologia, ha creato delle isole che non si parlano e che quindi fanno fatica, cioè funzionano molto bene magari a livello locale, ma quando devi tornare verso il centro e fare sistema a livello di paese, hai dei costi altissimi perché le cose non si parlano, i dati sono diversi, alcune regole di comunicazione per funzionare non ci sono, perché dall'altro non c'era la consapevolezza di farlo. Questo è uno dei grandi problemi. Una cosa Matteo, tu intendi che ci dovrebbe essere, secondo il tuo parere, o forse io ho interpretato male le tue parole, un ente indipendente che curasse questi aspetti? Probabilmente, ma non è detto che sia indipendente, il problema è che dovrebbe avere due componenti, accentrare, cioè dovrebbe riuscire a far capire che tutte queste entità pur nella loro indipendenza devono parlare dei linguaggi comuni, degli standard, tecnologici, prima di tutto ma non solo, perché altrimenti il sistema paese ne soffre. Dall'altro sarebbe utile che ci fosse maggiore consapevolezza tecnologica, cioè come diceva anche Stefano Quintarelli che ha fatto cinque anni in Parlamento ed è una delle persone più competenti nella storia e nell'evoluzione di Internet in Italia, era uno dei primi che ha portato i provider a fornire connettività Internet nei primi anni 90, è giusto per capirci. Il problema vero è che chi definisce le regole e chi dà tutta una serie di contesti in cui muoversi a livello centrale, spesso è totalmente inconsapevole delle possibilità e della tecnologia in senso lato. Non devi essere informatico ma devi capire un po' cosa cambia rispetto al mondo che conoscevi prima, quello fisico e basta. Non avere questa consapevolezza crea dei disastri assurdi. Non ultimo non capire che un cittadino oggi può dare una mano al bene comune del suo paese anche facendo civic hacking, perché non riesce neanche a concepire un aiuto di questo tipo. Ottimo. Quello che mi piace poi di voi, che mi piacerebbe ad esempio che nel vostro sito, adesso civic hacking è destinato al libro e alla newsletter, però che tutti i progetti che voi riportate fossero in una pagina con uno stato di avanzamento, però forse se c'è qualcuno in ascolto che si occupa di sviluppo software o volesse fare una cosa del genere, leggendo la vostra newsletter sarebbe già interessante, ma che avete sempre fatto una cosa importante, cioè che molte volte in rete si leggono notizie estemporanee, invece voi collegate nel tempo quello che accade, che è molto importante, ma soprattutto siete molto attivi e avete capito il legame forte che c'è tra territorio e tecnologia, perché andate molto spesso ad eventi, ma soprattutto ho notato che avete capito che un territorio ha un tessuto sociale, questo tessuto sociale ha delle esigenze, dalle esigenze nascono i problemi e lì attecchisce il civic hacking, quello mi è sembrato di aver capito. La dimensione locale tra l'altro è fondamentale perché intanto è accessibile a costi bassi, allora a meno che non sei Rockefeller, può starti anche solo per accedere a un evento culturale, pesa il fatto di non poterlo fare, cioè dover andare a Roma a 500 km di distanza. L'altra cosa della dimensione locale è che la conosci, conosci di più il contesto, conosci le dinamiche, conosci i campanilismi, quelli sono ovunque, ma conosci un po' il perché ci sono quei campanilismi, conosci la problematica, le persone, quello che pensano, i modi di più o meno la vita che c'è lì. Questa cosa è fondamentale perché non risolvi mai un problema astratto, cioè non è che noi ci alziamo la mattina e vogliamo essere civici, noi in realtà, per il ragazzo, la mattina vorresti tornare a letto, probabilmente, ma in generale la cosa collegata anche alla dimensione locale è fondamentale perché è quella che puoi affrontare nel breve tempo che intercorre, che può essere un mese di tempo libero che tu decidi di investire un po' con un ritmo che riesci a tenere e ad affrontare una serie di cose che localmente puoi affrontare. Mi viene in mente, è citato Andrea Borruso, la comunità di Open Data Sicilia da questo punto di vista è assolutamente una prassi da studiare perché sono riusciti a prendere spunto da conoscenze internazionali di pratiche, l'Open Data, piuttosto che l'Open Government, portarle nella dimensione locale e grazie a un tessuto sociale, se vogliamo, strano come quello siciliano dove magari su alcune cose sono molto più indietro, ma c'è molta più voglia di mettersi in gioco proprio perché magari non hai altri modi per far andare avanti alcune dimensioni, hanno una resilienza eccezionale, anche lì hanno preso spunto involontariamente anche dalla nascita di Spaghetti Open Data, cioè da aver messo insieme persone di estrazione diversa. Ci sono anche persone che fanno politica locale, che seguono la lista, che cercano di coinvolgere le persone più visibili come Andrea Borruso, ma che quindi sfondano porte nel senso positivo. L'altra cosa che spesso non viene raccontata è proprio questa dimensione della rete che ci permette di andare oltre i singoli contenitori in cui siamo cresciuti e in cui viviamo, cioè il singolo lavoro quotidiano, piuttosto che la formazione che ci identifica tutta la vita. Che cosa sei in informatico? Ah, tu hai fatto filosofia. Eh, ho capito, ma non sei solo quello, no? E soprattutto ti permette di metterti in contatto anche se sei distante da molte persone, con persone affini che invece magari abitano dall'altra parte dell'Italia o del mondo, che però stanno facendo dei ragionamenti simili ai tuoi, no? Quindi non ti senti più solo. Questa cosa è bellissima, anche a livello di esperienza umana, no? Sì, decisamente, decisamente. Senti una cosa, ritornando invece alla tua attività quotidiana di Spazio Dati, era romantica l'idea di Spazio Dati quando è partita come startup che diceva che il valore dei dati sta nel contesto di creare e unire più fonti di dati, più sorgenti di dati per fare in modo che ci sia sempre più valore perché è proprio nella interrelazione tra i dati che emerge di più il valore. E qua io ti volevo chiedere il tuo lavoro, adesso la tua attività all'interno che viene ancora indicato come community manager, ma di cosa fai effettivamente durante la tua giornata e soprattutto Spazio Dati cosa è diventato in questa data-driven economy e che strumenti date perché così capiamo anche le aziende cosa possono farsene di questi dati e di questi strumenti per effettivamente portare ancora più valore, esporre anche i propri dati aziendali. Esatto, allora Spazio Dati nasce a fine 2012 ufficialmente, nasce come una costola di FDK all'interno di una spin-off della fondazione Bruno Kessler qui di Trento all'interno del gruppo Web of Data che quindi è collegato a tutte quelle cose del semantic web, linked data, quindi una dimensione tecnologica che cercava di collegare in maniera più facile dati di provenienza totalmente diverse e usando le tecnologie alla base del web fondamentalmente. L'intuizione iniziale era quella di siccome è costoso e serve competenza unire dati di fonti diverse perché non fallo una volta e offrire questa cosa come servizio, come software as a service, come dato as a service. Quindi l'idea iniziale era di fare un data market. In quegli anni tra il 2010 e il 2012 nel mondo ne erano nati un po' che univano dati di miniatura diversa, alcuni magari open, altri no, altri potevano essere acquistati con licenze di rivendita, li normalizzavano, quindi nel gergo informatico significa dargli una struttura comune che poi è facile e meno costoso da interrogare e da gestire per un attore terzo che ci deve creare del valore. Anche perché poi alla fine se la maggior parte del tempo tu la sprechi nella pulizia dei dati, non la applichi a cosa te ne devi fare nel dato. Questa era l'idea iniziale. Io sono arrivato nella... Questa era l'idea iniziale quando dovevi, come dire, aggregare dati e espolli in maniera strutturata. L'altro pezzo di quella revisione iniziale era anche estrarre con dati dal testo. L'altra fetta da cui nasce Spazio Dati è quello che si chiama oggi Dandelion API che è un'API quindi un modo di interrogare un software da parte di un altro software. Bravissimo, io la spiego da una vita e tutti mi guardano perplessi. È un modo di... un linguaggio machine to machine che ti permette di appoggiare il tuo software a un altro software in maniera veloce e semplice. Non deve essere un umano che deve interrogare un'API ovviamente tendenzialmente. Un'API che è in grado di estrarre capire di cosa parla un testo estrarre delle entità che sono dei termini chiave una sorta di parole chiave con una serie di caratteristiche di base con cui tu puoi farci qualcosa cosa? Puoi farci analisi aggregare capire categorizzare i termini chiave di cui parla un testo non lo so recensioni capire quali sono gli ambiti le parole chiave usate su 10.000 recensioni e via dicendo. Infatti se ne parla molto in ambito understanding language processing nei chatbot natural language processing esatto la differenza sostanziale è che Dandelion forse a livello comunicativo non lo diciamo molto bene ma in generale nasce grazie a Wikipedia cioè grazie agli open community data di Wikipedia è stata sviluppata un algoritmo che è in grado di dare il come dire il grado di vicinanza e quindi il grado di confidenza di una parola rispetto a un argomento quindi ad esempio capire se la parola lira usata dentro un tweet quindi pochissimo testo fa riferimento alla moneta o allo strumento musicale questa cosa la tecnologia NLP di solito la fa con fatica perché usa la sintassi della frase se tu usi la conoscenza raccolta in Wikipedia di quella lingua invece riesce a funzionare bene queste due anime di spazio dati del 2012 poi cosa hanno fatto sono state viste hanno capito alcuni Cerveb che è una delle più grandi aziende italiane che vende business information quindi prende i dati anche da informare le camere di commercio fa scorri creditizio tutta una serie di altri servizi ha visto le potenzialità tecnologiche e di spazio dati e nel 2014 ha deciso di investire quindi ha investito a livello di capitale quindi ha entrato in quota societaria in minoranza ma e ha fatto crescere l'azienda ha creato grazie al fatto di avere di aprire delle porte che una piccola start up non poteva avvicinarsi non poteva avvicinare clienti storici di server di canali commerciali vi dicendo anche la maturità del mercato stesso e nel 2015 questa fusione questa come dire questa fusione se vogliamo di mondi ha creato Atoka che è l'altro servizio oltre Dandelion API Dandelion API giusto per farvi capire è un API che vendiamo in tutto il mondo in inglese i clienti vengono da Amazon perché lo usa per fare una serie di cose con il Kindle ha tutta una serie di testate editoriali che lo usano per motivi di categorizzazione interna dei loro siti dei loro network di siti interni per valorizzare scusa una cosa ti chiedo per il modello di business che c'è in questo tipo di API il numero di richieste una membership è premium quindi c'è un livello di base dove tu puoi fare chiamate API a costo zero senza nessuna quindi uno la può provare esatto e anche per alcuni casi d'uso può bastare magari e poi invece sopra una certa soglia si paga una quota mensile a seconda della necessità e tutto ok invece Atoka che io ho detto mi sono chiesto subito appena l'ho sentito ma perché questo business non l'ha fatto principalmente la camera di commercio da subito eh questa è una bella domanda allora sicuramente c'è un tema di competenza tecnologica Atoka nasce nel 2015 grazie ai dati che ci ha fornito CERBED l'idea era dare una piattaforma veloce dietro c'è tutto questo mondo che si chiama Big Data e quindi c'è questa piattaforma a uso presso che istantaneo che aggrega i dati di infocamere fondamentalmente tutte le camere di commercio quindi dato quello che viene chiamato ufficiale a tutto quel mondo strano che è il web cioè Spazio Dati ha unito in un solo servizio mondo strutturato del dato ufficiale con la capacità tecnologica di essere un mini Google se vogliamo cioè di salvare e crollare le pagine aziendali dei siti web aziendali che noi con algoritmi di matching associamo all'informazione della ragione sociale dell'azienda e da quei siti estraiamo contenuti estraiamo contenuti in forma pura per fare ricerche verticali all'interno di Atoka sul contenuto dei siti web di quelle aziende delle aziende in generale e facciamo poi rielaborazioni quindi parole estraiamo a noi delle parole chiave che riteniamo pertinenti e rilevanti su quei contenuti anche i social ad esempio dell'azienda e lo scopo è dare la possibilità di accedere e di fare analisi sul mondo aziendale italiano unendo informazioni ufficiali e rumore tra virgolette che becchiamo online in un'unica interfaccia utente questa è un po' l'idea ci sono anche delle API quindi il modello lì ovviamente è abbonamento la versione base è ad abbonamento mensile o annuale e poi ci sono delle API che quindi il sistema integrato quello che nel gergo degli addetti ai lavori sono quelle aziende che interviano servizi CRM piuttosto che tutta una serie di sistemi gestionali dicendo che hanno bisogno di aggregare dati come quelli che abbiamo in Atoka quindi quello è un altro canale di vendita se vogliamo quando hai parlato di crawling ho pensato che avevo fatto tempo fa e dopo ho fatto un episodio anche nel podcast dove raccontavo che ero andato a fare scrapping del sito di Apple e poi c'era scritto la licenza che non potevo farlo quindi avevo creato un sito dove volevo far vedere le categorie e trovare meglio i podcast e poi ho detto forse non lo posso fare quindi voi dovrete sicuramente leggervi anche molte cose legali per capire se potete farlo o meno sì lì il tema è affascinante perché in realtà se tu il tuo obiettivo non è replicare il contenuto ma essere come Google essere un motore di ricerca che segue le regole di robot TXT quindi le regole di chi pubblica il sito e decide cosa dovrebbe essere come dire crollato o visto dagli agenti automatici cosa no e se quello è il tuo scopo allora in realtà non è come dire replicare siti fake piuttosto che azioni magari illegali ma se lo tuo scopo è facilitare la visibilità di quel contenuto in realtà dovresti essere perfino ringraziato in generale però c'è scritto espressamente che non è per fare nessun tipo di utilizzo di solito dipende però sì è variegata la cosa quindi il mio lavoro per tornare alla domanda Spazio Dati oggi vive in questa in questa come dire evoluzione in cui in realtà cerca di fare di di Michele Barbera che è il CEO ha sempre usato in questo termine democratizzare l'accesso a una serie di informazioni che prima erano meno visibili o meno ricercabili adesso che dici questa cosa qua ho scoperto grazie alla vostra newsletter anche che esiste il FOIA cos'è? il FOIA sai che abbiamo in Italia questa idea di prendere gli acronimi in inglese e tradurli per farli capire ancora meno a noi poveri italiani magari l'inglese lo mastichiamo male lo dico proprio così come scritto così non lo possono cercare il FOIA sta per Freedom of Information Act e sarebbe il diritto di accesso alle informazioni pubbliche e di fatto per chi un po' non lo sa l'idea di poter accedere come singoli cittadini a informazioni detenute dalla pubblica amministrazione senza avere un motivo legittimo dichiarato ad esempio essere coproprietari di un edificio e quindi accedere ai dati catastali per dirne una può essere un giornalista che magari quindi hai più hai una serie di codici di condotta e di libertà aumentate rispetto al cittadino ma in generale questa cosa prima del FOIA non era possibile effettivamente cioè tu come cittadino non potevi chiedere alla pubblica amministrazione un contenuto che non aveva pubblicato perché a meno che non avessi una serie di particolari evidenze il FOIA è quello che in italiano è stato tradotto accesso civico generalizzato in un certo senso e ti permette e obbliga la pubblica amministrazione a rispondere a qualsiasi istanza che un cittadino può chiedere alla pubblica amministrazione motivando tutta una serie di richieste di accesso agli atti accesso ai dati accesso ai contenuti per rendere la pubblica amministrazione più accantable in un certo senso usando un termine inglese cioè più deve rendere conto dell'operato che fa quindi il cittadino oggi ha un potere immenso perché può chiedere come vengono spesi alla fine i soldi pubblici come in che oggetti e tutti i dati e i contenuti che possono essere creati ovviamente con tutto il rispetto delle norme sulla privacy piuttosto che la riservatezza di una serie di ambiti sicurezza nazionale e via dicendo però in generale può e deve avere accesso a quei contenuti e fare accesso civico generalizzato cioè ovvero fare richieste foglia verso la pubblica amministrazione aiuta entrambi i lati il cittadino che impara a usare un diritto impara qualcosa di più di quello che è l'apparato statale quindi che è qualcosa che è anche suo perché lo Stato siamo noi non è solo un'entità terza che ti ruba le tasse tra virgolette cose che abbiamo dimenticato ma soprattutto educa la pubblica amministrazione a ricordarsi perché esiste esiste per gestire una cosa che noi da soli non possiamo gestire perché se no sarebbe il nostro lavoro ma che di fatto è anche nostra quindi è giusto che ti chieda di rendere conto di quello che fai ma non nel senso perché vuoi accusare qualcuno o qualcosa ma perché quella cosa è anche tua certo è un discorso più ampio di trasparenza e di partecipazione che ha molta a che vedere con la democrazia non vorrei arrivare troppo in alto con questo episodio ma ti vorrei prima di chiudere vorrei chiederti non solo dove possono trovarti in rete ma anche sul tuo progetto come una pitch per startup vorrei sapere cosa vi serve per portare a un secondo livello il vostro progetto o per mantenerlo in vita allora mi trovate online cercando Matteo Brunati sono un pop su tutti i social tranne Instagram che non ho mai apprezzato particolarmente il mio sito personale è dagonai occhio di dagon punto it sono un appassionato di award p lovecraft e quindi è una mia debolezza lo dico io per te c'è anche per sostenere la newsletter c'è anche il paypal punto mi slash dagonai esatto infatti l'obiettivo è darci dimostrarci che qualcuno legge la newsletter e quindi ci sostenete anche con un caffè e aiuta anche lo spirito non solo il tempo che dedichiamo a scrivere la newsletter quindi sicuramente farci qualche donazione è sicuramente fondamentale l'altra cosa è in questa fase forse la cosa migliore è interagire con l'hashtag scrivendoci chiedendo chiedendo anche cose scrivendoci usando l'hashtag usando i nostri canali personali chiedendo perché anche perché non scrivete qualcosa che potrebbe essere collegato a civic hacking che magari non abbiamo ancora visto farci capire qual è quello che noi non vediamo ancora cioè il feedback diciamo qual è la percezione anche di di chi legge di cosa manca se se comincia a essere tra virgolette noioso il contenuto e via dicendo e l'altra cosa forse sicuramente un pat pat virtuale ogni tanto per dire il libro cosa ti aspetteresti anche da un libro che parla di civic hacking oggi che c'è un archivio di newsletter così ampio che potrebbe anche bastare di per sé e quindi quello che è più utile in questa fase è proprio farci capire se c'è attesa per un libro sul civic hacking oppure se forse è qualcosa che riteniamo utile solo noi guarda a parer mio la vostra newsletter è già ampissima per scrivere almeno cinque libri quindi se fosse per me collegherei solo temi principali e farei quasi una collana cioè di ogni tema puoi realizzare già qualcosa volevo solo chiedere una curiosità perché non per aggiungere tecnologia su tecnologia che ovviamente sappiamo benissimo che non è quello la soluzione ma se avevate pensato soluzioni come Patreon per il finanziamento stiamo valutando è vero l'idea inizialmente era anche fare a un certo punto una campagna di crowdfunding per sostenere una serie di costi vivi del libro una volta che trovi l'interesse ad esempio anche di un editore questa è un'altra forma di aiuto se conoscete editori che possono essere interessati all'interno di una loro collana un'opera di quest'ambito scrivetegli scriveteci diteci chi è e questo è un tema l'altra cosa effettivamente è ci sono delle forme di crowdfunding che stiamo valutando più che altro per poi portare a compimento una bozza che può essere corretta quanto vuoi ma poi ha bisogno di una serie di lavorazioni successive quindi anche quello sarà un potenziale canale di come dire di sostenibilità del progetto c'è qualche domanda ancora aperta però avete fatto un grandissimo lavoro quindi andrebbe premiato una cosa che volevo aggiungere comunque di crowdfunding ho intervistato in un episodio Laura Sgreccia che sono esperti di crowdfunding ma probabilmente anche tu hai i tuoi contatti però è bene saperlo e ricordiamo dagonai.it civic hacking ericamarconato.it perché l'altra metà del progetto è una parte importante fondamentale spaziodati.eu giusto? Sì confermi prima di ringraziare e lasciare il nostro ospite comunque ricordo il gruppo omonimo di strategia.it su telegram per chi vuole farmi domande direttamente sulla tecnologia sul business o su progetti come questo che comunque hanno bisogno di allargare la propria audience continuamente e non mi resta che dire registratemi alla mia newsletter refactoring.it sedesce newsletter ma soprattutto alla civic hacking.it la newsletter di Matteo ed Erika che ringrazio grazie a te è stato un piacere ciao a tutti alla prossima